In America, in questo periodo della storia del mondo, una stampa indipendente non esiste. Lo sapete voi e lo so pure io. Non c'è nessuno di voi che oserebbe scrivere le proprie vere opinioni. E già sapete anticipatamente che se lo faceste non verrebbero mai pubblicate. Io sono pagato un tanto alla settimana per tenere le mie opinioni oneste fuori dal giornale con cui ho rapporti. Altri di voi sono pagati in modo simile per cose simili. E chi di voi fosse così pazzo da scrivere opinioni oneste si troverebbe subito per strada a cercarsi un altro lavoro. Se io permettessi alle mie vere opinioni di apparire sul numero del mio giornale, la mia occupazione verrebbe liquidata prima di 24 ore. Il lavoro del giornalista è quello di distruggere la verità, di mentire spudoratamente, di corrompere, di diffamare, di scodinzolare i piedi della ricchezza e di vendere il proprio paese alla sua gente per il suo pane quotidiano. Lo so io e lo sapete pure voi. E allora che pazzi è questa di brindare alla stampa indipendente? Noi siamo dei burattini, loro tirano i fili e noi balliamo. I nostri talenti, le nostre possibilità, le nostre vite sono tutte proprietà di altri. Noi siamo delle prostitute intellettuali.